Le passeggiate fotografiche nei borghi fanno tappa a Castel San Lorenzo e noi siamo proprio con il sindaco Giuseppe Scorza, sindaco un bel modo per mettere in vetrina le eccellenze di Castel San Lorenzo. Sì, è un'occasione molto bella per far conoscere Castel San Lorenzo, le sue aziende, le sue tradizioni, le sue associazioni, il mondo che è in fermento per rendere questo luogo più bello, sempre più ameno, sempre più piacevole. Un ringraziamento a Italia Emotional Way e a tutti i suoi partner per aver pensato anche a noi in questa bellissima iniziativa e un benvenuto ai fotografi che hanno conosciuto Castel San Lorenzo in questi giorni sotto un gran sole, sotto un gran caldo ma che hanno avuto possibilità di vedere il nostro borgo antico, il nostro fiume, le nostre cose belle. Oggi proseguiamo questa bella mattinata per scoprire i sapori della nostra tradizione, le cose che sappiamo fare bene, che rappresentano le eccellenze del nostro territorio, il vino, l'olio, i prodotti dell'enogastronomia locale. Davvero un'occasione per farci vedere, per accogliere gli amici, gli ospiti che vorranno venire a trovarci in questa circostanza e per far sì che questa promozione continui e possa essere perichiamo per altre persone che attraverso questi canali potranno conoscere Castel San Lorenzo. Sindaco, lei ha accennato alla passeggiata che è stata fatta grazie a questo gruppo che ha raggiunto Castel San Lorenzo appunto e proprio in questo senso possiamo accennare ai nostri spettatori che ci sono tanti lavori in corso a Castel San Lorenzo per valorizzarne le risorse passeggistiche. Sì, purtroppo c'è stata questa interferenza di alcuni cantieri che agivano proprio sui luoghi più ameni per renderli più belli, il vino del principe e le sponde del fume calore e altri punti particolarmente belli nel nostro territorio. Si stiamo preparando per rendere Castello sempre più bello, per recuperare i suoi valori anche architettonici, artistici, culturali, per far sì che la nostra proposta di conoscenza sia completa, oltre i sapori, oltre i colori, oltre i profumi, anche la bellezza di un patrimonio culturale e artistico che sicuramente appartiene a quella cosiddetta Italia minore, ma che conserva tante cose belle da far vedere e preziosa. Passeggiate fotografiche nei borghi, arriva a Castel San Lorenzo dopo tante tappe in diversi borghi di tutto il territorio, ne parliamo con Amafalda Inglese della direzione di My Fair, raccontiamo di questo bellissimo e interessante progetto. Sì, Passeggiate fotografiche nei borghi è alla seconda edizione appunto nel 2022, avendo dato l'avvio di questa progettualità l'estate scorsa, con i primi tre borghi, cioè Altavilla-Silentina, Tortorella e Corletto-Monforte. Invece nel 2022 siamo appunto alla terza tappa delle passeggiate fotografiche nei borghi con Castel San Lorenzo. Sono weekend, weekend esperienziali, weekend di osservazione, di un'osservazione particolare come quella della categoria dei fotoamatori, che chiaramente sono persone che hanno quel particolare capacità di visualizzare, di esprimere un'emozione attraverso uno scatto e soprattutto restituirla. E' quindi un progetto di promozione dei piccoli paesi. Nella Valle del Calore hanno aderito diversi comuni, così come nel Medio-Cilento e nel Basso-Cilento, ma anche Durazzano per esempio, che è nel Beneventano. Quindi inizia ad essere un progetto più allargato e più conteso anche, perché chiaramente abbiamo delle date che non sono tantissime. Quest'anno infatti sono nove, nove weekend, è un progetto molto impegnativo. La cosa molto importante a cui teniamo particolarmente è la grande partecipazione delle comunità, quindi delle amministrazioni comunali, delle prologo, delle associazioni, ma proprio degli abitanti. E' veramente molto emozionante vedere queste persone, i visitatori, visitatori anche che non hanno una particolare professionalità alla fotografia, ma che comunque si provano nello scatto, uno scatto di tipo emozionale. Ed è bello vedere anche la popolazione che fra il serio e il faceto comunque partecipa a queste passeggiate. Aggiungo che a fine anno vi sarà un concorso, quindi con una giuria variamente organizzata, dalla parte tecnica alla parte promozionale, web marketing, eccetera, quindi dei rappresentanti di queste categorie, che daranno un giudizio alle fotografie che hanno partecipato. E quindi verranno selezionati due vincitori e poi una menzione per ogni comune. Quindi verrà fatta una premiazione, una presentazione in provincia di Salerno, già abbiamo la data il primo dicembre di quest'anno, e quindi poi delle mostre itineranti. Il progetto Passeggiate Fotografiche nei Borghi è compenetrato all'interno del movimento culturale Italia Emotional Way, che è un'espressione di promozione territoriale dei borghi di My Fair SRL che dirigo. Un progetto che è anche un'opportunità per i cittadini e per i comuni che accogliendo questi visitatori possono mettere in mostra le eccellenze delle varie aziende, oltre che quelle territoriali. Sì, e a Castel San Lorenzo, devo dire, è stato particolarmente emblematico in quanto è un comune dotato di tante aziende della produzione dell'agroalimentare e dell'artigianato. Come possiamo vedere proprio stamattina, che è appunto il secondo giorno della tappa Castel San Lorenzo, in cui abbiamo voluto dare spazio a queste aziende che, devo dire, hanno recepito il messaggio, accolto e sono qui e adesso ve le facciamo vedere. Non ci resta che informare tutti su come fare per unirsi alle Passeggiate Fotografiche nei Borghi. Assolutamente molto semplici. Abbiamo una segreteria organizzativa, My Fair SRL, che è una mail, Passeggiate Foto, Chiocciola My Fair SRL. Abbiamo la pagina Facebook di Italia Emotional Way. Basta cercarci e saremo molto contenti di dare tutte le informazioni per essere presenti anche nei prossimi sei appuntamenti. E noi ci troviamo all'interno della storica cantina di Castel San Lorenzo, la cantina Valcalore, in compagnia del presidente Marcello Tancredi. Ancora una volta la cantina non si è tirata indietro nell'aprire le sue porte a questa bella iniziativa. Buongiorno a tutti. Infatti grazie per averci scelto come location. Ringraziamo Mafalda Inglese, ringraziamo l'amministrazione comunale, i partecipanti che sono venuti qui stamattina ad esporre i loro prodotti. La nuova Valcalore per queste iniziative e non solo è a disposizione. Il cancello è sempre aperto, a noi fa piacere fare questi tipi di manifestazioni, far partecipare anche altre aziende di Castel San Lorenzo, del territorio della Valle del Calore. Quindi ci auguriamo che molto presto saranno fatte altre iniziative del genere.